Grazie, allora oggi un video super super veloce perché volevo farvi vedere proprio tre cosine che mi sono arrivate e mi sono arrivate da René Semplici, cioè da Semplici Bijou. Io non vi ho mai parlato di questo sito perché non ho mai avuto modo di acquistarci per il momento ovviamente, però mi faceva piacere farvi vedere queste tre cosine, soprattutto perché è una ragazza carinissima che è nata come noi, insomma come creative e poi ha messo su il suo negozietto online e secondo me è una cosa bellissima. Vi faccio vedere queste tre cosine, allora ho due rocaille da farvi vedere, allora questa colorazione, sono una 11.0 Silver Lined Milky Pomegranate, come cavolo si dice non lo so, vabbè insomma avete capito, ed è questo colore molto bello, una specie di direi bordo rosso lucido e Silver Lined perché appunto ha questa colorazione all'interno più sul silver diciamo. Come mi spiego benissimo, perdonatemi, allora eccole qua, così si vedono bene, sono veramente carine. Avevo bisogno di perline rosse perché sto facendo delle commissioni natalizie e sapete che a Natale il rosso va tantissimo, non è un colore che io utilizzo tanto durante l'anno, però in questo periodo mi viene richiesto e lo faccio insomma volentieri. Poi questo altro colore, che sono sempre 11.0, Opaque Last Red Cherry, che non ci sono più perché mi stavo dimenticando che dovevo fare il video, che volevo fare il video e le stavo mettendo a posto qua in qualche scatolina. E questo è più proprio più un rosso fuoco acceso. Madonna, anche la messa a fuoco sta un po' dando i numeri con questo colore. Ok, si vede benissimo, è proprio molto realistico. È un rosso con la finitura lucida e il colore è proprio compatto. E' un rosso tinta unita, molto molto carina anche queste. Sono indecisa ora su quale utilizzare per la creazione. E questo era il nome, così se volete riandarle a cercare sul sito, insomma sapete che colore è. Poi vi faccio vedere questi rivoli, che sono veramente molto belli. Sono in vetro, non sono svaroschi. Ups. Allora, guardate intanto questo azzurro, com'è bello. Proprio un bel colore. E io tra l'altro ne ho pochi di questi colorini azzurrini, che mi fanno sempre comodo. E poi questo colore molto particolare, cangiante dal... Ups. cade tutto dalle mani. Dal fucsia al viola è un colore veramente, veramente bello. E mi sembrano proprio anche di ottima qualità come rivoli in vetro. E poi... E poi... Tre colori di piattine di Soutash. Allora, devo dirvi che io le ho già aperte, le ho già tenute in mano, le ho già guardate. E le trovo molto buone come qualità di piattine. Vedete anche comunque il... La consistenza, che rimangono abbastanza rigide. E sono veramente, veramente carine. So che René si sta rifornendo adesso di Soutash. Io vi consiglierei di andarci a dare un'occhiata, perché mi sembrano veramente buone come piattine. Questi due colori che vi ho mostrato sono con la finitura opaca. Vedete? Io ve le consiglio. Vedete che mantengono più o meno la forma che gli date. Insomma, sono di una buona qualità queste piattine. Adesso non ho però purtroppo i nomi dei colori da potervi dire. Però per il momento non ha milioni di colori sul sito, quindi sicuramente potete riconoscerli. Quindi questi due erano quelli con la finitura opaca. Poi ce n'è uno con la finitura lucida, che è questo rosa antico. Bello, bello, bello. Guardate. Proprio carino. Guardate anche questo. Insomma, vedete che non sono moscette. Hanno una buona consistenza, quindi mi sento assolutamente di consigliarvele. Ok, avevo solo queste cosine da farvi vedere. Io sicuramente nei prossimi giorni, insomma, quando avrò bisogno, andrò a vedere anche sul sito di Semplici Bijou, perché a volte ci focalizziamo sempre sui soliti siti su cui siamo abituati, insomma, ad acquistare. Però ogni tanto bisognerebbe guardare anche un po' altre parti. E niente, vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!